5 Stelle Paternò 5 Stelle Paternò Quindi come vi dicevo prima Saremo al Feudo Sambito Giorno 21 giugno Dalle 9 di mattina Alle 19 Avremo il piacere di rimanere Qualora lo vogliate a pranzo insieme Perché ci sarà una conferenza Sull'alimentazione e sulla salute Gestita dal dottor Riccardo Loiagono E dalla dottoressa Elena Longo Ora io Entro relativamente nei dettagli Insomma avremo anche tanti ospiti Come Gianina Ciancio, Valentina Zaffarana Giancarlo Cancelleri Ci sarà Mario Gianrusso, Ornella Bertorotta Giulia Grillo e Francesco Cappello Insomma ci saranno i nostri amici Deputati al Parlamento Nazionale Alla Regione Siciliana Avrete la possibilità di scambiare qualche parola con loro Perché non stiamo allestendo dei palchi Non ci sarà un'amplificazione Quindi ci sarà un contatto diretto con loro Potrete parlare se vorrete Di quello che sta succedendo a Lars Con Francesco, con Valentino, con Gianina Potrete parlare di corruzione Con Michele Gianrusso Potrete parlare di sanità con Giulia Grillo Insomma gli argomenti non mancano Ci teniamo a precisare che l'evento Non rappresenterà un'opportunità di lucro Per il Movimento 5 Stelle Paternò E l'ingresso è assolutamente gratuito Quindi io vi ricordo l'appuntamento Per l'ultima volta Ci vediamo domenica 21 giugno Dalle 9 alle 7 di sera Al Feudo San Vito Qualora vogliate restare a pranzo con noi E la cosa ci farebbe veramente piacere Il numero per prenotare i posti a sedere È 329 42 89 0 56 Io vi saluto e vi abbraccio Ciao